In un momento storico così importante in cui la geopolitica mondiale è fortemente in subbuio, l'unica nostra salvezza in Europa è l'Unione, essere uniti. E infatti l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, che giustamente è unita su tutto. E qual è la prima cosa che deve essere uguale per tutti in una Unione? La moneta! E infatti si sa che nell'Unione Europea c'è l'Euro in tutti i paesi dell'Unione. Mica lo dico io, è proprio scritto qui, ho messo su Google il motore di ricerca moneta unica nell'Unione Europea, ho scelto proprio l'Euro, tutti i paesi ce l'hanno, tutti, quasi tutti. Poi c'è la corona svedese, poi c'è quella danese, poi c'è la corona cieca, poi c'è la cuna croata e anche altre monete. Vabbè, insomma, l'Euro non è in tutta l'Unione Europea, però si sa che i soldi non fanno mica la felicità. E mica lo dico io, lo dice sempre mia nonna che sta qui, è vero nonna? Ha detto pure lei. I soldi non fanno la felicità. Vabbè, ma su altre cose siamo uguali. Ad esempio, la tassazione sui redditi delle persone fisiche è uguale in tutta l'Unione. E proprio lo leggevo prima. Ad esempio, in Italia lo scaglione più basso che abbiamo è del 23% di tasse. Mentre in altri paesi tipo Francia e Germania lo scaglione più basso è del 14%. Quasi 10 punti di tassazione di differenza. Vabbè, si sa che lo scaglione è diverso, ma noi italiani siamo i più scoglioni d'Europa. Vabbè, abbiamo lo scaglione più alto d'Europa. Vabbè, ma si sa, i soldi mica fanno la felicità. Vabbè, gli stipendi saranno uguali in tutta l'Unione. No, abbiamo tra i stipendi più bassi d'Europa. Allora, le tassazioni. Le tassazioni per le imprese, no? Perché si sa che se le nostre aziende pagano come le altre aziende europee, siamo competitivi come le altre aziende. E anche qui, in questo caso, le nostre aziende hanno tra le tassazioni più alte d'Europa. Vabbè, infatti è un dettaglio. Infatti, nell'Unione Europea, dato che siamo così uniti, ci sono i paradisi fiscali. E aziende italiane come Mediset e Fiat hanno la sede in Olanda. I soldi li portano in Olanda, mica in Italia. Vabbè, però si sa, no? I soldi mica fanno la felicità, come dice giustamente mia nonna. È vero, nonna? È così. È tutto uguale. Quasi tutto. Per esempio, la sanità non è proprio uguale per tutti in tutta l'Unione Europea. Infatti, noi italiani siamo tra quelli che hanno speso più soldi di tutti per i vaccini. Soldi nostri, che mica fanno la felicità, giustamente. L'istruzione è completamente differente in tutta l'Unione Europea. Vabbè, sono dettagli. Però c'è una cosa, ragazzi, incredibile. La cosa più importante di tutti. Mi metto la mano qui sul cuore per quanto è importante. Dal 2024 sarà uguale in tutta l'Unione Europea. Ecco qua. Il cavetto SB. Dal 2024 deve essere uguale per tutti in tutta l'Unione. Quindi, riepilogando, abbiamo tutto diverso nell'Unione Europea e la tassazione, la moneta, l'istruzione e la sanità. Però ci ritroviamo, noi italiani, quindi senza soldi, ma con questo in mano. E come dice giustamente mia nonna che i soldi non fanno la felicità. Nonna, dove me lo metto sto cavetto? Che dici? Ha detto che me lo posso mettere under 40... Che dici?